Oggi sabato 16 giugno 2012 ci troviamo in località Titele in Valle del Mis e stiamo entrando nel cantiere dove stanno proseguendo i lavori per l'analizzazione della centrale idroelettrica in Valle del Mis da parte della ditta Alpenbau su commissione ovviamente della Eva Valsabbia di Brescia. I lavori nel cantiere sono andati avanti in questi giorni, in queste settimane come potete vedere quello che qualche giorno fa era il letto naturale del fiume Mis oggi invece è semplicemente una strada che ha lo scopo di permettere alle ruspe di poter attraversare l'alveo liberamente qui qualche giorno fa scorreva liberamente il fiume Mis oggi invece il fiume Mis per questi 20 metri è già intubato in un tubo che serve appunto da bypass per deviare il flusso naturale del torrente come vedete oltre questa rete rossa il fiume scorre liberamente poi il fiume entra all'interno di questa cavità che vedete sotto dove è stato posizionato il tubo, ovviamente un'argine artificiale e già si possono notare le prime opere di cementificazione della valle appunto l'acqua entra nel tubo e per una ventina di metri circa scorre sotto quello che era il suo alveo naturale qui appunto stiamo passando dove normalmente, quotidianamente passano le ruspe da una parte all'altra dell'alveo e ci stiamo dirigendo verso invece lo scarico del tubo che è circa in questa zona, eccolo qui questo invece è lo scarico del tubo ed è la prima opera insomma di artificializzazione visibile insomma del torrente Mis già in questa fase preliminare di canterizzazione a presto a presto